Il giorno di novembre, il prossimo giorno è un giorno di celebrazione. Iacota inizia offizialmente la temporada di carnaval, suppostamente il 61, per una maniera nostra vita illustrata in un impasse formal tra il gruppo di carnaval e l'organizzazione del carnaval Tecowor e il SAC. Il governo di Aruba ha il suo intento per salvare le fieste culturali più grandi di nostra isla, ma magari può opinare che questo è un po' importante carnaval per la nostra isla. Il governo di Aruba ha il suo impatto di più grande per l'economia del paese di Aruba. Un par di milioni di Baiamacina circolare nel quadro di celebrazione del carnaval del nostro paese. Nostra lo vediamo a un certo momento questa celebrazione e una fiesta cultural. È una attività finanziaria, economica, di interesse per la gente, e quindi è un impasse che è un'unica cosa che è un punto di discussione. E io, che miro il carnaval, è un po' contrario a noi, è una discussione che è conduzione con la partecipazione di Bira Menos, con il sostegno del carnaval di Bira Menos, con i miri per il carnaval di Bira Menos, con il problema di ronde il carnaval aumenta e viene una roba più grande di oggi, con il nostro paese, con il nostro paese di aruba e creare un'ambiente salutabile, amicabile, per noi per celebrare la fiesta più grande di Aruba.